Si è svolto questa mattina, venerdì 6 febbraio, presso la sede della Camera di Commercio di Ascoli Piceno, un seminario sulla fatturazione elettronica. Ce ne parla Gino Sabatini, presidente della Camera di Commercio di Ascoli Piceno. Oggi sì, abbiamo iniziato un percorso con i consulenti, con i dottori commercialisti e con delle imprese per iniziare questo nuovo sviluppo della fatturazione elettronica, informare i nostri consulenti, ma informare anche le imprese, le piccole e micro imprese di queste novità a livello nazionale, che è la fatturazione elettronica. Sicuramente abbiamo notato che parecchie aziende hanno difficoltà a imparare il nuovo sistema, come dei consulenti hanno anche difficoltà a capire come poter riuscire la fatturazione elettronica. Oggi con piacere hanno notato che tutta la sala era piena. Ringrazio qui sia l'Ancot che i dottori commercialisti della provincia di Ascoli Piceno, che hanno dato seguito alla nostra comunicazione, facendo arrivare il più possibile dei professionisti qui con noi, ad ascoltare questa prima giornata di informazione. Successivamente a questa saremo intenzionati ad entrare anche nel mondo delle aziende, perché sarà un valore aggiunto per l'azienda anche la fatturazione elettronica.